Musica Questa sera mi esibirò con un gruppo di ragazzi del liceo un gruppo di obboi e clarinetti alcuni sono alunni miei altri sono alunni del professore alla mattina abbiamo messo su questo ensamble per dare la possibilità ai giovani di poter eseguire della musica del 600-700 del periodo barocco classico Questa sera si esibiamo appunto in questa splendida chiesa Santa Maria del Piliere I ragazzi che fanno parte dell'ensemble oltre a me sono Dario Pillitteri secondo obboe col corno abbiamo il maestro Gino Benenato poi abbiamo primo clarenetto Samuele Murò secondo clarenetto Seggio Totaro clarenetto basso Alberto Salerno e clarenetto contralto Pietro Vega percussionista Alessio Cavarretta eseguiremo musiche del periodo barocco appunto nel 600-700 faremo un excursus ed eseguiremo anche un divertimento di Aydin un adagio di Mozart arrangiato per questa formazione poi qualche brano natalizio visto che siamo anche nel periodo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.